Presidente, benvenuto nella redazione della riviera e partiamo subito con la prima domanda. Noi siamo stati, come testata giornalista, siamo stati critici nei confronti dell'associazione dei sindaci perché abbiamo visto molta confusione soprattutto nell'ultima riunione, ma soprattutto pensavo che fosse urgente la nomina di un esecutivo perché comunque la gente, soprattutto nel nostro territorio, ha molti problemi urgenti e non avere comunque una direttiva da parte dell'associazione dei sindaci sembrava una situazione grave. Siamo contenti che ieri sera c'è stata una riunione produttiva, c'è stata l'unanimità e si è votato soprattutto un presidente giovane che sembra un segnale importante per il nostro territorio. Le prime cose, lei cosa ha visto in questa assemblea di ieri? Io ieri ho visto un'assemblea che ha ritrovato nuove motivazioni e che ha avuto un comportamento veramente maturo e che ha dato dimostrazione che nel momento in cui bisogna adottare scelte anche scelte di campo per la vitale importanza dell'assemblea stessa perché si stava discutendo addirittura sull'esistenza dell'associazione stessa, voglio dire, come l'araba fenice, è rinata sulle sue generi e gli ha dato veramente dimostrazione di maturità, di concretezza, con una soluzione forse che ha spezzato tutti, che è una soluzione interna, voglio dire, io sono stato per tanto tempo anche nel comitato, poi nell'ultimo periodo avevo lasciato lo spazio alla sindaco di San Luca e quindi voglio dire, è stata una scelta quasi naturale quella di rivolgersi alle nostre energie all'interno, le più giovani come ha detto prima.